Una cerimonia che è stata presieduta dal comandante in capo della squadra navale, l'ammiraglio De Carolis. Il conflitto in Ucraina riporta il Mediterraneo al centro dello scenario internazionale. Tutta la marina militare in questo tempo difficile sente la grande responsabilità di essere all'altezza dei propri compiti e dei propri doveri. Un impegno intenso e di grande portata, anche in termini geografici. Oggi per esempio abbiamo una nare che è basata anche qui a Spezia, l'Alliance, che ha svolto un'attività molto importante e delicata di ricerca nell'Oceano Artico ed è in fase di rientro. Nel mare del Nord, in fase di rientro, abbiamo navi nel Golfo di Guinea, il Borsini in particolare, che oggi è in sosta a Libreville, nel Gabon. Tra i vari impegni e anche contatti con la marina locale, sta svolgendo un'attività di grande interesse umanitario a supporto di una fondazione. In particolare la fondazione Rava. Dal Golfo di Guinea andiamo all'Oceano Indiano, il Golfo Persico, dove abbiamo la nave Town di Revel, che è impegnata da alcuni giorni in un dispositivo a supporto della sicurezza per i campionati mondiali di calcio, che inizieranno tra pochi giorni. A questi impegni più lontani, in termini geografici, ci si associa il grande sforzo che stiamo producendo nel Mediterraneo, legato ai compiti istituzionali che ha la marina. Quindi salvaguardia della libertà di navigazione in alto mare, difesa, protezione degli interessi nazionali, che vanno dalla flotta peschereccia, alle navi che battono bandiera italiana, il contrasto delle attività illecite in mare, e un aspetto molto importante legato agli attuali scenari, che è la sorveglianza dei fondali, in particolare degli oleodotti, dei gasdotti e dei cavi, per i quali siamo direttamente impegnati. L'amiraglio De Carolis ha poi sottolineato come la prima divisione navale sia nel tempo cresciuta in termini di uomini e di unità navale. Suo compito principale è la tutela degli interessi italiani nello scacchiere internazionale. La prima divisione è accattizzata ad avere una varietà di navi che svolgono lavori di tipo molto diverso. Quindi si va dalle modernissime fregate del tipo Frame, delle quali due hanno capacità antisommergibile, il Fasani e il Margottini. Il Fasani in questo momento fa parte del gruppo di scorta della porta aerei francese Charles de Gaulle, che ha lasciato Toloni alcuni giorni fa e che opererà per un lungo periodo nel Mediterraneo e noi avremo una nave che fornirà la scorta, così come un'altra fregata non della prima divisione, ma gemella del Fasani, il Carabiniere, nella scorta del gruppo porterio americano della Bush. Quindi un impegno ad ampio spettro e al quale si aggiunge la progressiva consegna di nuove navi che vede nella prima divisione navale, proprio per essere basata qui a Spezia, la capacità di integrazione nel più ampio contesto della squadra navale.